ok allora ho visto molte persone guardare come come mettere il canale d'annunci come questo vedete allora per fare questo server è molto facile allora server settings enable community get started qui ti fa tutte le robe tu fai next fai create one for me oppure scegliete voi andate qui fate tutte queste cose qui ed eccolo qui ora per esempio ora guarda non guardate questo server è già tutto ora se tu fai una nuova categoria come per esempio la chiamiamo ciao vai giù qui fai un canale announcement ciao ecco qua puoi fare così e poi lo pubblicare in altri server prego